Manuel Bortuzzo nella bufera. Ormai non ci sono più dubbi. Manuel Bortuzzo è di nuovo innamorato. La nuova fidanzata si chiama Angelica Benevieri ed è una famosa TikToker. I due sono usciti allo scoperto solo qualche giorno fa, postando sui social uno scatto che non lasciava a dito a dubbi. I due ragazzi infatti si sono mostrati mentre si scambiavano un bacio. Ebbene, a distanza di poche ore, la nuova fidanzata di Manuel ha risposto ad alcune domande poste dai suoi follower su Instagram e riguardanti proprio la sua vita sentimentale. A chi le ha domandato se fosse felice in questo momento, la giovane ha risposto con un eloquente, tanto. Poi, la nostra Angelica, ha postato sulle sue Instagram stories un nuovo scatto, che la vede abbracciata a Manuel. Tutto fa pensare che lei e Manuel siano più che innamorati che mai e che non vogliano più nascondere questo sentimento. Viva l'amore, verrebbe da dire. Qualcuno però ha fatto notare che Manuel in tutta questa situazione ha mostrato una certa dosi di incoerenza. Per quale motivo? Dopo aver chiuso la storia con Lulu Selassie, il nuotatore triestino aveva assicurato che non avrebbe più parlato della sua privata. Non solo, aveva pure aggiunto che, qualora avesse trovato una nuova fidanzata, avrebbe mantenuto il riservo più assoluto. Cosa che non è avvenuta. Promessa non mantenuta quindi. Sembrava che la grande pressione mediatica a cui era stato sottoposto durante la storia con Lulu, non piacesse affatto al nostro Manuel. Motivo per il quale, dopo la rottura con la princess, aveva dichiarato di non voler più parlare in futuro della sua vita privata. C'è anche da dire che l'amore per la principessa era nato sotto i riflettori del GF VIP, e che quindi era normale che la loro storia d'amore finisse nel tritacarne mediatico. Sembrava però che, tutto quanto accaduto solo qualche mese fa, fosse servito da lezione a Manuel. Ed eccolo invece di nuovo al centro dei riflettori, con la sua nuova fidanzata. Si è autosmentito da solo in buona sostanza. Non ha fatto nulla per stare lontano dal gossip. Va precisato che non c'è nulla di male in questo, però balza all'occhio l'incoerenza dell'ex Jeffino, che forse, anche a causa della giovane età, non è riuscito a mantenere la sua promessa. Ma cosa si sa della nuova fiamma di Manuel? Angelica è un personaggio molto noto sul web, in particolare su TikTok, dove vanta circa 270.000 follower. Ha 20 anni, ed è già collezionato qualche esperienza nel mondo dello spettacolo. Ed è apparsa nel programma, Perfetti sconosciuti, con Cesare Bocci, e nella fiction, le indagini di Lolita Lobosco. E la nostra Lulu se la si è? Cosa ne penserà di tutto questo? Ricordiamo che solo qualche settimana fa, l'ex Jeffino Giucas Casella aveva dichiarato che la principessa era ancora innamorata del suo ex Manuel, e che non lo aveva ancora dimenticato. Potrebbe essere un duro colpo per lei ora, sapere che il suo ex invece, l'ha già dimenticata con un'altra. Soprattutto non le farà piacere vedere gli scatti postati da Manuel sui social, insieme alla sua nuova fidanzata. Cosa ne pensate? A voi i commenti. Metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti.